Un progetto internazionale di formazione porta per la prima volta a Salerno e in Italia accademici e luminari della medicina cinese. A sacro cuore l'associazione ATI ha presentato il progetto di formazione globale alla presenza del luminare cinese Liu Yi e di medici specializzati del settore. Siamo riusciti ad aprire a Salerno, è la nostra città, non la mia città ma la città di altri docenti, ci ha ospitato, ci ospita e quindi partire da questo progetto internazionale di formazione che prevederà appunto il rilascio di certificazioni, in questo caso parliamo della Cina, la medicina tradizionale cinese, oggi possiamo dire che è presente a Salerno ed è presente dal punto di vista proprio accademico, di ricerca ed è un passaggio interessante, insomma, molto importante. Quali sono i punti di forza? I punti di forza è sicuramente la docenza, i docenti, la progettualità, essere comunque associati a università cinesi, quindi insomma offrire un livello di insegnamento altamente qualificato, insomma, quindi questo è importante.